Sta aspettando ulteriori ribassi o ha già fatto acquisti? Ho cominciato a fare acquisti così e penso comunque che andrà avanti con ulteriori saldi. Ha visto qualcosa che le interessa? Come sono i prezzi? Buoni, anche il 70% ho visto in giro, sì. Ha fatto acquisti, anche stamattina ha fatto degli acquisti, no no, va bene così. Come sono i prezzi? Buoni, buoni, sì, accettabili. Conviene? Sì, 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 conviene, conviene. Bisogna guardare un pochino ma conviene. Il suo budget qual è stato? Il mio budget è sui 50-60 euro al capo. Ho preso alcuni vestiti in cara e i saldi erano buoni. Cosa hai comprato? Una gonna e anche un paio di jeans. Era ribassato forse un 30%. No, io non ho fatto acquisti con i saldi. No, lei compra? No, se avevo bisogno compravo qualcosa durante l'anno ma non aspetto i saldi e comunque quest'anno c'è poco da comprare. Adesso col 70% magari qualche acquistino? No, guarda, ho comprato qualcosa per mia mamma e dopo ho speso un sacco di soldi in farmacia. Lei sta aspettando ancora un ulteriore ribasso? Ancora sì, ancora sì, ulteriore ribasso per poter prendere e comprare qualcosa, insomma. Non ha fatto nessun acquisto fino adesso? Sì, qualcosa dai, adesso abbiamo acquistato qualcosa, si inizia. I prezzi sono vantagevoli? Sì, abbordabili, sì, 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 abbastanza vantaggiosi. Hai visto già qualcosa che ti interessa? Sì, soprattutto diciamo nei negozi che hanno un budget più alto, i saldi sono più imponenti, diciamo. Quindi si vede l'effettivo sconto? Sì, su quei negozi là, su quelli magari più abbordabili non varia di tanto. Grazie. Grazie. Grazie.